Notte da incubo a Crotone, dove a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla città, danneggiando alcune attività commerciali ubicate nel quartiere Fondo Gesù. Erano passate da poco le tre di notte, quando una telefonata allerta i vigili del fuoco, che giunti sul posto, hanno trovato una situazione veramente allarmante. In via a chille grandi, le potenti raffiche di vento hanno divelto i tetti di alcuni capannoni adibiti ad attività commerciali, in particolare di un supermercato e dell'autostazione romano, oltre allo store di prodotti elettronici. I pannelli in lamierato, strappati dai tetti, sono finiti sulla sede stradale sottostante e nel parcheggio nelle vicinanze, causando danni alle vetture parcheggiate. Il traffico è stato interdetto per parecchie ore, almeno fino alla totale rimozione dei detriti sul manto stradale. Intanto i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere o bloccare gli altri pannelli pericolanti, che a causa del perdurare del maltempo rischiavano di diventare un pericolo per la popolazione. Sono tornati regolari gli arrivi degli autobus nell'autostazione adiacente a due magazzini danneggiati. Non solo tetti, il forte vento ha causato anche la caduta di alberi su diverse strade della città, rendendo necessari ulteriori interventi, perché stavano ostruendo le strade. Per questa è stata anche necessaria una rapidazione per liberare il passaggio e prevenire ulteriori incidenti. Oltre ai danni strutturali, numerosi cittadini hanno segnalato infiltrazioni d'acqua e allagamenti nelle loro abitazioni a causa del maltempo. A parte questo, non si sono registrati ulteriori danni a cose o persone.